Carissimi fratelli e sorelle, carissimo Nicola e Marzia, vorrei iniziare questa breve riflessione svelandovi un segreto, in merità questo matrimonio si sta celebrando ora ma si è già celebrato. Caro amore, mi ritrovo quest'oggi a scriverti la prima lettera da sposati. Dopo tanti anni passati insieme, oggi abbiamo coronato un sogno. Grazie amore mio per questi splendidi anni insieme. Pies, ci vediamo in chiesa! Grazie a tutti! 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 vi custodisca, vi benedica perché possiate sempre amarvi e onorarvi tutti i giorni nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia fino all'ultimo istante della vita e così sia.